è di questi giorni un fatto che fa riflettere e cioè quello che in un procedimento penale guarda caso per maltrattamenti, maltrattamenti in famiglia, prima che si sia concluso il procedimento, prima che l'accusa e la difesa abbiano comunque completato la loro arringa, il loro ruolo e soprattutto la difesa abbia finito ovviamente di completare anche le proprie produzioni documentali e ovviamente discutere il processo, si è stato trovato già scritta la sentenza nel fascicolo. Questa sentenza che era una bozza, bene, però seppur bozza ovviamente conteneva un fatto grave, cioè il fatto che il giudice avesse già deciso prima che il processo fosse concluso. E non è secondo me un caso che questo si sia verificato proprio nei reati di maltrattamenti. Perché quando si difende una persona per maltrattamenti, a me è capitato molte volte difendere queste persone per il maltrattamento in famiglia, spesso vi sono casi in cui questi maltrattamenti non sussistono ma vengono appunto denunciati pretestuosamente ai fini poi di una separazione in corso e di questo io ho già molte volte parlato di queste false denunce appunto proprio su questo canale e sui miei post, ma il problema è che quando si va dinanzi al giudice, ecco spesso si dà, il giudice dà per scontato ovviamente che questo maltrattamento sia stato, si sia verificato anche in assenza di prove e solo sulla testimonianza della persona offesa. È vero che questi reati di solito si fondano solo sulla testimonianza della persona offesa, così come anche per esempio i gravissimi reati di violenza, violenza sessuale dove spesso la vittima e il carnefice sono solo loro, va bene, che possono ovviamente essere presenti in quell'episodio, quindi la vittima è l'unica testimone presente, però di fatto c'è necessità di riscontri oggettivi. Eppure quando questi riscontri oggettivi non ci sono, tipo per esempio la donna che sostiene, a me è capitato che appunto il marito la malmenasse tutti i giorni per diversi anni, ma nonostante questo non vi era mai stato un certificato medico, nessuno aveva visto nulla, nemmeno i genitori di lei che coabitavano con lei e nonostante questo il giudice ha condannato. Quindi siamo veramente in una situazione in cui appunto il giudice è a dir poco prevenuto, quando si tratta di maltrattamenti l'uomo è sempre ovviamente l'orco, dico l'uomo perché ovviamente nel caso di maltrattamenti in famiglia spesso è l'uomo, anche se ci sono casi di violenza in famiglia che l'uomo subisce, ma sono magari più che fisica sono psicologici, ma il problema è che non solo non vengono denunciati, spesso anche perché l'uomo appunto un po' si vergogna ovviamente di denunciare di essere vittima di questi maltrattamenti, ma anche perché non viene creduto ed è questo il problema. Mentre la donna appunto denuncia e quindi su questa scia, su questa denuncia ovviamente si parte il procedimento e probabilmente con molta probabilità si arriverà alla condanna del soggetto anche senza riscontri, anche se effettivamente questi non hanno commesso nulla. E questo fatto che è emerso in questi giorni, cioè il fatto di aver già trovato una sentenza scritta, seppur in bozza, ma questo non conta, è il fatto che il giudice aveva già deciso e il processo non era finito. Questo è di una gravità, ritengo, assoluta. E spesso posso dire che come avvocato ci siamo e mi sono sentito praticamente, non dico inutile, ma quantomeno ecco che l'apporto che veniva dato soprattutto in sede di discussione, io parlo sempre del procedimento penale, poche volte abbia fatto presa nei giudici, ma proprio perché questi giudici e i giudici in generale vanno al processo che hanno già deciso. E' questo appunto il fulcro. E nella discussione finale, nella maggior parte dei casi, poi vi sono stati dei casi in cui magari si è percepito che forse qualcosa è cambiato, ma sono casi rarissimi. Questo è tanto vero quanto il fatto che nei procedimenti di appello e perfino di cassazione. Ad oggi, va bene, la presenza del difensore è, diciamo, ammessa solo se richiesta esplicitamente. Cioè, praticamente, siamo arrivati a fare un procedimento di appello e un procedimento in cassazione in ambito penale scritto. E questo dimostra ancora di più quanto effettivamente la discussione finale poi alla fine non porti un granché al processo. Certo, ci sono dei processi in cui, quantomeno per un obbligo, diciamo, nostro morale, vista magari la gravità anche dei reati, e anche perché comunque, come avvocato, almeno personalmente, penso sempre che posso trovare quel giudice giusto, posso trovare quel giudice effettivamente che vuole andare a fondo alla situazione, posso trovare quel giudice che, appunto, voglia andare ad accertare la verità. Molto spesso non si trova questo tipo di persona. Però, ecco, diciamo che ogni volta che si affronta la causa, a meno che affronto la causa, va bene, non parto mai prevenuto in questo senso, parto anzi con la speranza di trovare di là, appunto, una persona, ripeto, un giudice. Un giudice che sia retto, sia imparziale e non abbia pregiudizi. Perché questo dovrebbe fare il giudice, sostanzialmente. Ma questo non è. E soprattutto, appunto, nel caso di maltrattamenti, dove negli ultimi tempi, negli ultimi tempi, a questo punto, anche abbastanza lunghi, perché non si parla di mesi, ma si parla di anni, si apre il giornale e vi è sempre una violenza contro le donne. Quindi è giusto, io dico, perseguire, ovviamente, questi tipi di reati. Chi ha commesso questi tipi di reati è giusto che paghi, perché sono reati gravissimi. Bene. Ma a fronte di molti che commettono questi reati, anche perché poi c'è anche il fatto che quando questi reati vengono davvero commessi, poi magari le autorità giudiziarie ci dormono sopra e si arriva poi ai femminicidi. Bene. E questo è un altro argomento, no? Perché anche lì, a fronte dei tempi lunghi della giustizia, quando vi è effettivamente un riscontro oggettivo, appunto, in queste situazioni, bisognerebbe agire subito. Sì, è stato modificato il Codice Rosso, sicuramente vi sono degli interventi anche con la riforma Cartavia, che diciamo, hanno dato un impatto più pregnante a queste situazioni, ma di fatto poi queste vanno concretizzate e vanno attualizzate. Va bene? Perché se poi, quando io presento la denuncia, il pubblico ministero in realtà non fa correttamente il proprio lavoro e ci dorme sopra, quando il carabiniere o il poliziotto del caso, l'autorità giudiziaria, praticamente non dà un impulso immediato a queste situazioni, non si interviene con misure cautelari, eccetera, poi si arriva purtroppo a questi casi estremi. Però, dicevo, di fronte a queste situazioni bisogna vedere anche l'altro lato della medaglia, cioè quei casi in cui i maltrattamenti non ci sono stati, ma la denuncia sì, cioè i casi di false denunce. Ora, nel caso appunto che è denunciato e di cui sto parlando in questo post, ovviamente non conosco le carte processuali, quindi non so se effettivamente la persona, poi l'imputato, potesse avere una ragione della sua parte, oppure effettivamente vi fossero elementi così pregnanti a suo sfavore, e quindi che lo dovessero portare alla condanna, ma ripeto, quello che è strano, prima di tutto, è che il reato sia di guarda caso di maltrattamenti. E l'altra cosa, appunto, è che la sentenza era già scritta. Questo è sicuramente un episodio che fa riflettere, dovrebbe far riflettere sicuramente, e fa riflettere noi avvocati, ma dovrebbe far riflettere anche i clienti, in quanto spesso chi viene da noi cerca delle soluzioni, è giusto che cerca delle soluzioni, soluzioni che noi cerchiamo sempre di dare con il nostro impegno, con il nostro lavoro quotidiano, con il nostro aggiornamento quotidiano, ma poi ci scontriamo di fronte a queste realtà, perché le decisioni non le prendiamo noi. E quindi ci sono appunto queste situazioni. Nel caso in esame il collega ha giustamente non solo chiesto l'astenzione del giudice a fronte di questa grave situazione, astenzione che poi non è avvenuta, ma è stato perfino attaccato dal giudice come perfino scorretto, cioè invece di chiedere scusa alla magistratura per questo fatto, perché comunque è stata fatta una cosa inconcepibile, invece di chiedere scusa l'ha perfino attaccato. E qui ci si trova di fronte ovviamente ad una situazione in cui appunto ci si potrebbe trovare noi tutti colleghi, noi tutti avvocati, per la difesa dei nostri clienti. E questo dovrebbe essere valutato dai nostri clienti, perché poi indipendentemente dalla condanna, che probabilmente in questo caso ci sarà, perché era già scritta, almeno che non intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura, ma ricordiamo che in molti casi anche di violazioni gravi da parte del giudice alla fine non è stata mai fatta alcuna sanzione a magistrati. Al più vengono trasferiti o perfino vengono promossi. È capitato giudici ordinari che avessero svolto nelle loro funzioni degli inadempimenti e delle violazioni gravi, è risultato da quello magari che l'hanno mandati a fare i giudici della Corte d'Appello, quindi aumentandoli perfino di grado e di stipendio. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Noi la conosciamo bene, noi avvocati, perché andiamo tutti i giorni in tribunale, sappiamo con chi abbiamo a che fare, ovviamente vi sono anche giudici sicuramente bravi, giudici che fanno il loro lavoro correttamente, ma a fronte di questi troviamo anche purtroppo queste situazioni. E quando di fronte a questa situazione oggettiva, alla fine la magistratura perfino ti attacca, invece di dire è vero, questa volta abbiamo sbagliato e ci avete preso con le mani nel sacco e in realtà attacca. E questo la dice lunga, la dice lunga su come delle volte si svolgono i processi, su come quando si va a fare e affrontare delle cause che sembrano scontate e poi si ha un risultato completamente opposto. Quando non si valutano tutte le situazioni, ma per esempio in diritto di famiglia questo è una cosa molto frequente perché pensiamo a tutta la situazione drammatica dei padri separati. Il padre separato è quello che deve pagare, è il bancomat di turno e ha voglia che si dica che alla fine non è un bancomat. Quando si va in giudizio, in una separazione, al padre gli si chiede solo i soldi e questo è. Il tribunale concede ovviamente l'assegno nella misura che detiene congro, ma non valuta la disparità, non valuta la situazione differente, non valuta la situazione economica in cui poi questo padre si potrà trovare. A differenza magari della madre che è collocataria dei figli che non solo non gli cambia la situazione, ma ovviamente questa situazione verrà anche integrata da un assegno, magari anche per lei. Poi anche qui ovviamente non si può generalizzare e ogni caso è a sé, ma di fatto appunto la situazione dei padri separati, il fatto che molti padri separati, si parla di più di duecento casi l'anno, poi si suicidano, è un fatto grave. È un fatto grave che però ci fa pensare e ci fa riflettere sul fatto che non si va a fondo alla situazione, non si cerca di fare effettivamente giustizia. Spesso appunto in tribunale è già qualcosa, se si trova qualcosa che assomigli alla giustizia. Ma troviamo appunto queste situazioni, queste sentenze già scritte, ancor prima che il processo sia finito. E guarda caso, quel processo riguarda proprio un trattamento in famiglia. E spero che questo video quindi ti sia piaciuto. Metti un mi piace, iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornato sulla materia di diritto di famiglia, per toglierti ogni dubbio e come hai visto io poi sono solito dire le cose come stanno, quindi non mascherarsi dietro appunto delle finte facciate, dico la realtà di come viene svolta la professione, di cosa accade in tribunale senza peli sulla lingua, perché ritengo che l'informazione sia la prima cosa e che il cliente e ovviamente la persona che anche guarda il canale, i miei video, perché questa è la funzione, debba ovviamente sapere. Perché enunciare il principio di diritto, che è sicuramente interessante, sicuramente da adito a diversi argomenti, però di fatto il problema è che spesso fra la norma, fra il principio di diritto e la sua applicazione pratica, sciano bis. E quindi anche per questo io ho aperto appunto questo canale e faccio questi video, proprio anche per dare un quadro più reale. Ovviamente è reale per quello che è la mia esperienza, che ormai è di quasi 25 anni di professione, ovviamente non è una cosa che si può generalizzare, riguarda solo l'esperienza che ho vissuto io in tutti questi anni. Però posso dire che è un'esperienza anche, diciamo, una critica quando viene fatta la critica, perché giustamente poi quando vi sono situazioni in cui anche i magistrati vanno elogiati e la giustizia funziona bene, va sicuramente anche detto questo. Ma questi casi e queste critiche spesso vengono anche condivise da altri colleghi. E quindi bisogna fare attenzione, bisogna sapere che il risultato non è mai scontato, la vincita non è mai scontata, che poi comunque nelle separazioni non c'è né chi vince né chi perde, perché poi chi perde quando si fa separazioni a coltello, separazioni molto accese, è sempre il figlio e sono sempre i figli che perdono. Ma indipendentemente da questo appunto il risultato di un giudizio non è mai scontato. Si può avere tutte le carte in regola, ci possono essere precedenti appunto giuridici, appunto su quella questione che si pensa simile al nostro, perché poi ogni questione è sempre unica a sé stante e poi si va in giudizio e si ha un risultato opposto. E non è detto che poi questo risultato poi venga, diciamo, ribaltato nelle sedi successive. Quindi spero che ti sia piaciuto questo video e non mi resta che salutarti al prossimo video. Ciao, a presto!